bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tante novità per quanto riguarda le news delle ultime 24 ore di fortnite e ce ne sono davvero tante di notizie perché oggi soprattutto inizia il reboot a friend event ve ne avevo già parlato un paio di giorni fa la nuova iniziativa di fortnite che vi regalerà quattro premi ci sono degli dettagli dei dettagli nuovi di cui voglio parlarvi ma parleremo anche di altro dell'arrivo di nuove cose sul winter fest tutti stiamo aspettando la patch 15.10 la prima che ovviamente ci porterà al winter fest con un sacco di novità ve ne faccio vedere prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno lasciando un bel like a questo video mi raccomando ragazzi e tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di una cosa davvero interessante in questo momento state vedendo tutte le armi esotiche presenti in game sì perché come sapete dalla nuova season quindi la numero cinque l'ingresso delle armi esotiche è stato davvero molto curioso ne abbiamo ben sei più il backpack che in realtà alla fine non è altro che un jetpack infinito ma guardate che nei file di gioco sono state trovate due nuove armi esotiche che molto probabilmente arriveranno nel winterfest 2 new exotic weapons we cold see in winterfest potremmo vederle probabilmente ne vedremo la prima si chiama burst ar dovrebbe essere un fucile tipo famas quindi funzionerà a come dire a raffica che potrebbe freeze enemies quindi rallentare i nemici ogni qualvolta che riusciamo a colpirli si parla ovviamente di pochi centesimi di secondo e la frozen smg quindi una mitraglietta ghiacciata dovrebbe dare l'effetto del ghiaccio ai nemici l'effetto del ghiaccio quello che si otteneva quando andavamo sopra delle superfici ghiacciate nelle season precedenti e si pattinava letteralmente quindi due nuove armi esotiche magari limitate speriamo di vederle per avere comunque una bella roba da rinfrescare su fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle curiosità per quanto riguarda questa stringa di codice che è stata trovata ieri pomeriggio si parla di un nuovo aim assist sul quale si sta lavorando e che molto probabilmente verrà integrato nella patch 15.10 cosa sto a cosa mi sto riferendo mi sto riferendo alla possibilità ma non si sa di chi se dei pc player o dei controller player di avere la lame assist migliorato quindi il tracciamento dell'arma sul nemico quando si sta sparando ed infatti leggiamo l'articolo che dice fortnite is working on new aim assist targeting nella patch 15 un plugin chiamato targeting system è stato aggiunto la descrizione dice che è un sistema di tracciamento generico che verrà utilizzato per il gameplay speriamo che non sia qualcosa che sbilanci una di quelle season che sembrano a parer mio equilibrate al punto giusto forse c'è solo un po troppo aim nelle negli scagnozzi quelli che sponono ma io non andrei a toccare nulla vediamo e speriamo che epic non rovini niente e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arrivano di nuovo delle immagini per quello che riguarda il reboot a friend quindi la l'evento chiamiamolo così tra virgolette l'iniziativa che fortnite ha fatto per far sì che i giocatori che non giocano da tanto al loro battle royale ritornino a giocare ed entrambi quindi sia loro sia gli amici possano ottenere delle ricompense abbiamo già visto che ci sono delle il sito internet dalla pagina delle news di fortnite è già disponibile ma purtroppo arriva una un aggiornamento una regolazione che hanno deciso nelle ultime ore ovvero sia il nostro amico che dovrà essere rebuttato obbligatoriamente non deve aver giocato a fortnite negli ultimi 30 giorni questa è una cosa che in realtà non avevano detto e che è stata scoperta ieri ed è un pochettino una mezza fregatura perché adesso va bene tutto ma qualcuno di voi ha degli amici che non giocano da più di un mese a fortnite beh se li avete ragazzi convinceteli a tornare anche perché nel loro sito potrete selezionare c'è proprio un motore di ricerca interna dove voi inserendo il nickname del giocatore che volete rebuttare lo potrete appunto selezionare il sistema riconoscerà il vostro amico voi ci giocherete insieme e otterrete quattro ricompense la prima semplicemente giocando una partita l'adesivo con il van di reboot giocandone 5 una una musica per la lobby giocandone 10 i twin talons pickaxe e giocandone 20 loro foil rap quindi ragazzi dateci dentro mi raccomando e in bocca al lupo per i vostri premi e andiamo a chiudere il video di oggi ragazzi parlando di una nuova action figure forse c'è un altro argomento dopo di questo non me lo ricordo adesso guardiamo una nuova action figure dedicata al patch patroller quindi il soldatino di plastica questa action figure avrà il costo di 29 euro e 99 e sembra che sia tra poco disponibile in pre order sul sito di gamestop è davvero molto carina se fosse fatta bene io un pensiero quasi quasi ce lo farei con il piccone a salsicciotto è veramente veramente figa e io devo dirvi ragazzi che ho utilizzato per un periodo proprio questo set ora io non vorrei che avessero per caso preso spunto e fatta uscire comunque tenete controllato il sito di gamestop e sicuramente troverete la possibilità di preordinarla e chiudiamo molto rapidamente con questo articolo che parla dei bug che verranno fixati nella patch 15.10 che si vocifera arriverà proprio domani tanta tanta roba ragazzi la prima cosa è dedicata alla fortnite crew c'è un problema con l'ingresso della nella fortnite crew da parte dei giocatori di playstation verrà fixato alcuni non hanno proprio il bottone sempre su ps per gioinare nella fortnite crew e andiamo invece nella linea nella colonna seguente multiple action names are missing from the custom controller settings quindi a volte non vengono visualizzati correttamente i comandi quando si vanno a modificare nel battle royale ci sono dei problemi relativi alle quest che vengono segnalate come nuove anche se le abbiamo già fatte e qualche altro bug relativi alla pesca e al fatto di parlare con i giocatori con i personaggi non giocanti insomma ragazzi ho anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate il bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao